Secondo una fonte italiana, la società di servizi finanziari Rothschild & Co. holding finanziaria controllata dalle filiali francesi e inglesi della famiglia Rothschild, ha firmato un contratto molto strano con il designer italiano Pierpaolo Lazzarini. Pierpaolo Lazzarini ha sviluppato un progetto chiamato WAIA, case galleggianti a forma di piramide. Caricavano energia da pannelli solari e cibo per gli occupanti dal mare stesso. Ecco i dettagli importanti della fonte. Lazzarini ha cercato di raccogliere fondi per l'attuazione del suo progetto WAIA e ora Rothschild & Co. hanno dato una tale opportunità, dopo aver ordinato la costruzione di un'intera città galleggiante per la famiglia Rothschild. Il suo nome è Valknoth. L'etimologia del nome è incerta. Ma scomponendo la parola, la prima cosa che salterà all'occhio, in tutti i sensi, è la parola Nut, la divinità egizia del cielo. Valk, invece, significa falco. La divinità egizia del falco è Obus. Fonte del significato di Valk, falco. Valk è un cognome, significa falco in olandese e può essere di origine betonimica, riferendosi a un falconiero. Quindi si potrebbe tradurre la parola Valknoth letteralmente come falco del cielo. Valknoth letteralmente come falco di Valknoth letteralmente come falco del cielo. Valk of cooperatività è Greenwood. Valknoth letteralmente come falco di Valknoth letteralmente come falco di Valknoth letteralmente come falco della classifica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.